Ce l'ha con parte del mondo dell'informazione il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Uricchio, prima indagato in un'inchiesta per concorso in abuso d'ufficio e ora destinatario di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Caso chiuso dal punto di vista giudiziario, ma non dal punto di vista mediatico, dato che il procuratore ha convocato la stampa nella sede della magistratura contabile di Napoli per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il procuratore è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Punto. Tutto il resto sono fesserie che hanno girato su internet e sui giornali dopo un anno e hanno infangato sulla mente non solo la mia reputazione, ma hanno anche gettato fango sulle istituzioni che rappresento io e su quelle che operavano. Spero veramente che questo non possa accadere più e che per i cittadini di questo Paese si possa finalmente parlare di giudizi in termini veramente di garanzie, perché non dobbiamo mai dimenticare poi che la nostra Costituzione ci dice che il cittadino e l'imputato è considerato non colpevole fino a sendenza definitiva. Chiarita la sua estremità ai fatti, Oricchio era stato indagato nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso dicembre determinò l'arresto del giudice Mario Pagano in servizio a Reggio Calabria accusato di aver favorito amici imprenditori quando era in servizio al Tribunale Civile di Salerno.